Il presepe della parrocchia di Santa Maria di Portosalvo che ogni anno viene allestito qui all'interno della chiesa. Quest'anno qual è stato il tema, diciamo, dello stile del presepe? Abbiamo ripreso insieme con gli amici, in verità sono stati gli amici a fare il presepe, ho dato solo un'idea su quello che doveva essere, quindi abbiamo ripreso tutti quanti insieme l'idea del presepe settecentisco, cioè la capanna che si adage in un certo modo su un tempio romano. Che sta a significare? Sta a significare questo, che la nuova civiltà, la civiltà della misericordia e della povertà, va sopra, copre e sostituisce la civiltà decadente dell'impero romano. Questo è il significato. E anche tutto il presepe, il settecento è denso di significati per cui noi abbiamo il pescatore, che pesca, che dà il senso di Pietro, il grande pescatore, e anche il pesce, è detto in greco, ictis, che sono gli iniziali di Gesù Cristo. Poi c'è la donna con le uova, che sta a significare la vita. Poi una cosa molto particolare è che davanti alla grotta, al presepe, dopo la natività, c'è una loganda con gli osti. Questo nel presepe napoletano sta a significare il vizio, il peccato, e gli osti devono richiamare tutti i fedeli per non farli andare alla grotta. Perché nel settecento l'osteria era il luogo di perdizione, di gioco, dove stavano gli ubriaconi, i giocatori, dove stavano le prostitute. Quindi l'osteria ha il compito nel presepe di ostacolare e viene rappresentato proprio come momento di ostacolo per evitare che la gente possa convertirsi. Mentre il senso della conversione è rappresentato da Benino, il pastore dormiente, che viene svegliato dagli angeli e gli viene detto di andare alla grotta a adorare Gesù. Abbiamo i re Maggi, che sono per tradizione tre, ma probabilmente ne erano di più. Per la tradizione napoletana sono Gaspare, Merchiore e Baldassarre. E ognuno porta un dono che sta a significare proprio le prorogative di Cristo. Cioè l'oro, la potenza, l'incenso, la divinità e la mirra, l'immortalità.